I carabinieri hanno eseguito ad ossa un'ordinanza di misura cautelare per una coppia di italiani gravemente indiziati da avere organizzato, gestito e tratto profitto dall'occupazione abusiva di locali box di proprietà dell'Ater, in via delle Ebridi e in via Martinica. Sequestrati locali commerciali e cantine situate nel complesso alloggettivo di edilizia popolare per circa 5.000 metri quadrati. A carico della coppia, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa proprio perché gli immobili nel quartiere Nuova Ostia, Feudo, delle famiglie, Fasciagne e Spada, sarebbero occupati al fine di utilizzare i locali per lo soccaggio di materiale illecito, armi e ingenti quantità di stupefacenti.